Scritto a parlare il senatore Claudio Borghi. Prego senatore. Grazie signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi. Iniziamo subito con il chiarire che non stiamo discutendo del PNRR ma stiamo discutendo di un decreto che ne rende migliore l'attuazione. E come tale devo dire che anche in questo caso, come già in altri episodi in questa legislatura, devo dire che la strada è quella giusta. Vale a dire che l'attività parlamentare è stata premiata. Io credo che la qualità dell'intervento parlamentare su decreti e in generale su testi di provenienza governativa dipende dal numero degli emendamenti approvati. In questo caso il numero di emendamenti approvati è stato elevato, bipartisan, perché sono stati approvati emendamenti della maggioranza e emendamenti dell'opposizione. Dal punto di vista del lavoro in Commissione, nulla da segnalare se non aspetti positivi. Clima costruttivo. E penso che sia veramente questo un forte miglioramento rispetto a quello che abbiamo visto nella scorsa legislatura, dove le contrapposizioni della maggioranza protempore con la minoranza protempore avevano un carattere totalmente ideologico. Invece in questo caso mi sembra che il Parlamento sia valorizzato e invito tutti a proseguire così, perché è la maniera migliore. All'interno di questi miglioramenti, e ripeto, essendo che sono tanti gli emendamenti approvati, è difficile descriverli tutti, però ne segnalo uno così, proprio dal punto di vista simbolico, anche perché purtroppo anche a causa della riduzione dei senatori non abbiamo un rappresentante della Sardegna nel nostro gruppo, e il nostro gruppo si chiama ancora, ricorda il nome di questa grande regione, ma c'è un emendamento della Lega approvato che consentirà di avere, secondo le stime, fino a 35.000 posti di lavoro per la realizzazione del telescopio Einstein in Sardegna, che era messa in pericolo dall'ennesimo parco eolico regalato da Draghi alla Siemens, azienda tedesca, senza nessuna logica, nessun soppesamento di cos'è che sono i vantaggi per quella terra. Invece, in questo caso, sono convinto che sarà decisivo per riuscire ad ottenere l'assegnazione del telescopio Einstein in Sardegna con un enorme indotto per tutta l'isola. Però, detto questo, cogliamo l'occasione, però, per parlare in generale del PNRR, perché è evidente che è stato un argomento che ha occupato le cronache di questi giorni. Tra parentesi, è stato un argomento che ha occupato le cronache di questi giorni, non si capisce neanche sulla base di quale scandalo, perché si è presa qualche frase da parte del capogruppo alla Camera Molinari, del nostro capogruppo Romeo, mia, o similari, che sembrava che ci fossimo inventati noi che non volevamo fondi del PNRR o simili. Ecco, noi molto banalmente ci siamo semplicemente dichiarati d'accordo con quanto dichiarato dal Ministro Fitto. Qui in Senato, giustamente, il Ministro ha detto che nel 2026 non ci si arriva in fondo. Ha detto che sì, è vero oggettivamente. Ma facciamo un pochettino di strada indietro, perché qui il PNRR è diventato una sigla, un qualcosa che è un misto fra la sigla e il dogma. Allora, il PNRR, ricordiamo, giusto per capire se mai potrebbe essere questa meraviglia o questa fortuna per il nostro Paese, come viene indicato di base da tutti, è stata una cosa negoziata da Conte Gualtieri. Ora, secondo voi, già tenuto presente cos'è normalmente l'atteggiamento dell'Europa nei nostri confronti? Una roba negoziata da Gualtieri potrebbe mai avere un senso economico-finanziario? Io direi di no, perché ovviamente è cosa nota che, non so per quale strano accidente della vita, si era deciso di mettere come Ministro dell'Economia uno che l'economia non lo sapeva, perché era laureato in storia. Pazienza. Va bene, però così era successo. Immaginate andare questo agnellino in mezzo ai lupi europei che cosa avrebbe potuto portare a casa. Vi vorrei ricordare, così è giusto sempre per capire perché uno si viene fuori a dire che il PNR ha qualche problemino. Vi cito un articolo di giornale dell'epoca, stiamo parlando di dicembre 2020, relativo all'incontro che il Partito d'Italia Viva, all'epoca parte della maggioranza, ebbe con il Ministro Gualtieri. Cito, a una domanda dell'ex Ministra Maria Elena Boschi sulla riforma della giustizia nella parte del PNR relativa alle riforme di sistema, il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri risponde candidamente che lui il piano non lo ha letto. Ah, complimenti, salta sulla sedia la Ministra Bellanova, ma davvero non hai letto il piano? Questa era la situazione. Quindi, di cosa parliamo? Cioè, i famosi 200 miliardi, la pioggia di miliardi che è stata venduta, era solo propaganda, era solo una prima pagina del fatto quotidiano per far vedere Conte con le banconotte, ve la ricordate tutti, no? Con le banconotte che piovevano. Cerchiamo di inquadrare com'è la situazione in modo tale da poter sapere come gestire una situazione che, ripeto, abbiamo ereditato. Da dove vengono i soldi del PNRR? I soldi del PNRR vengono dai risparmiatori. Cioè, i risparmiatori, noi anche, mettiamo i nostri soldi in un fondo di investimento, andiamo in banca o similari, nel fondo di investimento, compra le obbligazioni emesse dall'Unione Europea. Quindi, dai nostri risparmiatori escono i soldi, si trasferiscono nelle casse dell'Unione Europea, che ce li presta, quindi l'Unione Europea ci presta i soldi dei nostri risparmiatori, ce li presta con delle condizioni e con dei monitoraggi, vale a dire entrandoci in casa. In buona sostanza è come se noi andiamo in una banca a fare il mutuo, che ci prende i nostri soldi e ce li ridà per prenderci non la casa che vogliamo noi, ma la casa che vogliono loro, e entrano nella nostra casa così ogni giorno per vedere come ci comportiamo. Però a questo punto uno dovrebbe dire, per avere una situazione del genere rispetto al normale metodo di finanziamento, perché ricordiamo che non è che non va nel deficit, sono cose fuori bilancio, sono cose che noi non vediamo, sono cose in più. No, nel deficit ci va uguale, è una forma di finanziamento come tutte le altre, vale a dire come l'emissione di BTP. Allora noi ci domandiamo, ma almeno questi soldi ci verranno dati gratis, ci verranno dati a tasso zero, perché se no altrimenti non si spiega perché io debba fare questa cosa invece che fare un finanziamento normale come faccio per tutte le spese dello Stato. Ma ci credete che io non ho ancora saputo a che tasso noi ci finanziamo? Nel ministro... non c'è, non c'è, andate, vi sfido ad andare a vedere sui report dell'Unione Europea per vedere il tasso delle emissioni, anche quella che abbiamo in attesa adesso, quantomeno delle ultime due, il tasso è scritto TBD, to be defined. Ora, ma vi sembra normale che uno va a prendere un mutuo e questo mutuo, con tutte le condizioni che abbiamo detto, non gli dicono neanche a che tasso lo sta prendendo? E poi vogliamo insegnare l'economia finanziaria nelle scuole? E certo, dobbiamo iniziare forse a insegnare l'economia finanziaria a Gualtieri, ecco, per essere... almeno per capire di che diamine si parla, non dico a Conte perché lì è una causa persa. Quindi, il fatto di aver preso 200 miliardi, cioè 100 e passa miliardi a prestito, 120 miliardi a prestito, senza sapere le condizioni e con tutte queste condizionalità, senza nessun tipo di dibattito serio parlamentare, è stata una manovra di un azzardo epocale, altro che le piccole cifre di cui noi qua discutiamo. Praticamente il nostro Paese si è consegnato mani e piedi all'Unione Europea, che controlla e guida quello che dovremmo fare con questi soldi che poi alla fine sono nostri e non sappiamo a che prezzo glieli paghiamo, senza sapere come e perché. Tra parentesi, ve lo dico così almeno possiamo evitare qualche brusio che ci sono, si può fare un po' il calcolo di quello che probabilmente sarà il conto, perché l'Unione Europea emette in questo momento i titoli circa a 100 punti di spread, circa, il sistema dice che saranno ribaltati questi interessi più commissioni e più fee, quindi circa andremo a 140-150 basis point di spread, quindi significa che non c'è nessuna, praticamente, nessuna differenza sostanziale rispetto al nostro prezzo di finanziamento sui mercati. E non solo, nessuno mi ha mai detto, e se per caso il Ministro lo sa mi farebbe una cortesia, nessuno mi ha mai detto se questi prestiti sono privilegiati o meno. Perché se per caso avessero le caratteristiche di credito privilegiato, privilegiato, allo stesso prezzo del credito normale invece dell'emissione dei BTP, saremo dei pazzi, saremo dei pazzi, perché noi andiamo a prendere a prestito a quelle condizioni un credito che ha delle caratteristiche di debito privilegiato. Quindi, quando noi cerchiamo molto banalmente di dire mettiamo i puntini sulle I, non è che siamo contrari, non è che diciamo che siamo, non è che, sì, eravamo contrari all'epoca, e infatti, guarda caso, ci stanno dando ragione. Ma in ogni caso noi siamo gente pragmatica, quindi una volta fatta la frittata, bisogna cercare di metterla nel piatto nel modo migliore possibile. Quindi noi siamo assolutamente propositivi per cercare di portare avanti, chiudo, Presidente, di portare avanti nella maniera migliore possibile questo PNRR. Tutte le volte che è possibile cercare di migliorarlo, come col Codice degli Appalti, come con questo decreto, noi abbiamo sempre dato il nostro contributo per cercare di essere al meglio nella possibile spesa di questo PNRR. Ma nascondere la testa sotto la sabbia e dire che va tutto bene, che sono i soldi, sono i miliardi dell'Europa, che Conte è stato un grande a prenderli e così questo tipo, non fa giustizia a quest'Aula. Invece noi dobbiamo essere qui ogni volta e poter anche ragionare sugli errori passati, perché gli errori passati evitano di ripetersi in futuro, se sono analizzati bene. Altrimenti continuiamo a raccontarci le favole. Noi ci saremo sempre per cercare di migliorare le condizioni di queste operazioni e per cercare di fare più operazioni possibili nell'interesse dei nostri cittadini. Ma l'importante è essere sempre sinceri con i nostri cittadini, perché altrimenti non potremo pretendere dal loro rispetto. Grazie Senatore Borghi.